Non sappiamo se si tratta di scomparse volontarie o involontarie e in più abbiamo sei cadaveri non identificati. Solo in Abruzzo sono 390 le persone scomparse dal 1974 ad oggi, anziani prevalentemente ma anche giovani molto spesso con un disagio psicologico che non sono riuscite ad affrontare. L'associazione Penelope ormai da anni in maniera gratuita offre assistenza ai familiari delle persone scomparse attraverso un pool di avvocati, psicologi e criminologi. Il seminario organizzato questa mattina ha come scopo innanzitutto quello di far conoscere Penelope agli abruzzesi, far conoscere questa realtà associativa che ha in seno diverse professionalità che sono quelle che occorrono per seguire le famiglie che purtroppo si trovano a dover far fronte alla disgrazia della scomparsa. Il fenomeno dal punto di vista sociologico potrebbe essere contrastato oltre che attraverso mezzi giuridici, mezzi giudiziari, anche attraverso un'azione di prevenzione che va fatta nella società dove si creano le condizioni di rapporti sociali più umani, di famiglie più stabili. Negli anni sono stati molti passi in avanti anche nella legislazione che l'Italia ha fatto nell'ambito della ricerca degli scomparsi. L'obbligo di accogliere la denuncia di sparizione da parte delle forze dell'ordine oppure la banca dati del DNA nella quale i familiari possono immagazzinare il proprio DNA per consentirne la comparazione con eventuali cadaveri non riconosciuti e sono oltre 2000 quelli sepolti nei cimiteri o custoditi negli obitori che non hanno ancora un nome. In più è fondamentale l'istituzione presso le prefetture del piano territoriale di ricerca per le persone scomparse che attribuisce il compito al prefetto di poter coordinare le scomparse.